Consentitemi di esprimere tutto l'orgoglio che un'iniziativa così importante delle delegazioni dei paesi del Mediterraneo si riusiscono a Napoli. Centralità della nostra città per quello che sta rappresentando anche sul tema dei beni comuni. Napoli, come ho detto nel mio intervento, sta provando a dimostrare che anche dal basso si possono difendere i beni comuni. Acqua pubblica, spiaggia pubblica, plastic free, stati generali del mare, la delega al mare, ossigeno bene comune, misure di contrasto ai cambiamenti climatici dal basso. Se non si schierano i governi del mondo diventa tutto difficile, ma Napoli non sta a guardare e soprattutto non aspetta gli altri. Poi ho voluto anche lanciare un messaggio che il mare va difeso non solo dall'inquinamento, dalla morte dei pesci, dall'invasione di plastica e di altri prodotti nocivi, ma anche dalle tossine umane, che sono quelle che hanno trasformato il Mediterraneo in questi anni in un mare di morte e non in un mare di vita. Quindi io credo che sia anche questa l'opportunità per dimostrare che qui nessuno è straniero e quindi per vincere questa battaglia in difesa del pianeta bisogna unire i popoli e non metterli gli uni contro gli altri come fa qualcuno anche nei nostri tempi.